Ora sulle notizie, qualsiasi sia l'esito elettorale, le borse saliranno, perché ci sarà un punto fermo che abbia vinto sì o che abbia vinto no. I mercati non tipano né per il sì né per il no. I mercati vogliono la stabilità. Nel momento in cui ci sarà un risultato elettorale, ecco che i mercati si adegueranno immediatamente. Tanto è vero che quelli che dicevano che con la vittoria di Trump sarebbero frollate le borse, ci sarebbe stato come dire il fin di mondo sui mercati finanziari, devono prendere atto che la borsa americana ha fatto sei sedute costitutive a rialzo e a parte l'indice tecnologico le principali indici statunitensi rappresentativi delle grandi industrie nazionali hanno fatto il record storico. Il dollaro si è rafforzato, quindi non c'è stata la fuga di capitali dagli Stati Uniti e le politiche monetarie continuano a essere esattamente quelle che erano state indicate e tracciate in precedenza dalla precedente amministrazione. Questa è la situazione, per cui non ci dobbiamo spaventare di quello che succederà il giorno successivo perché i mercati finanziari si adegueranno immediatamente. Quello che naturalmente oggi vi condiziona è l'assenza di certezze, perché l'esito elettorale è quanto mai incerto. Oggi hanno riportato i risultati, la differenza è minima e questa cosa sicuramente spaventa i mercati. Ma un minuto dopo che sapremo il risultato le cose si riequilibreranno. Anzi, non escludo che potremo avere anche delle sorprese così come è avvenuto negli Stati Uniti dove il risultato è stato decisamente sorprendente. In Inghilterra la moneta si è svalutata, i mercati hanno reagito male, dopo la Brexit la Borsa di Londra ha perso il 10%, la Borsa di Milano ha perso l'11%. Dopo Trump la Borsa americana ha fatto i massimi storici e questo secondo me è una bella differenza.